Sono in Open John Metis da 4 anni e sono un permanent account, mi occupo di ricerca e selezione del personale, quindi tutto ciò che riguarda gli inserimenti diretti in azienda. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è che è un lavoro assolutamente dinamico, quindi tutti i giorni è un qualcosa di diverso con cui mi approccio e mi rapporto e un'altra cosa che mi piace molto è il fatto che mi posso interfacciare con tantissime persone in quanto appunto mi confronto sia con i candidati sia con le aziende. Il ricordo più bello che ho nella mia esperienza in Open John Metis è stata appunto la prima selezione chiusa, quindi ero una stagista, mi è stata affidata appunto la ricerca e selezione di una figura e quando ho chiuso, diciamo, quando sono riuscita ad inserire la risorsa è stata veramente una soddisfazione importante. Il primo giorno in azienda ero veramente molto emozionata perché per me significava non solo l'inizio di una nuova avventura, ma anche il cambio di vita perché mi sono trasferita da un piccolo paese a una cittadina che è Firenze e quindi ricordo una emozione fortissima che però, diciamo, si è subito sciolta quando sono entrata in ufficio perché ho trovato un ambiente estremamente sereno e collaborativo. Open John Metis ha cambiato la mia vita perché mi ha dato una seconda opportunità in quanto appunto il mio percorso di studi verteva su degli argomenti completamente diversi, sono laureata in legge e mi ha dato la possibilità di imparare un mestiere che mi appassiona tantissimo e mi ha dato la possibilità di diventare indipendente e crescere a livello professionale e personale. La qualità che riesco a esprimere grazie al mio lavoro è l'empatia in quanto mi permette di comprendere ed entrare in sintonia con clienti e candidati. Da bambina sognavo di fare l'avvocato, infatti tutti i miei studi hanno, diciamo, portato a raggiungere quell'obiettivo. In realtà poi mi sono accorta che non era assolutamente la mia strada. La mia passione più grande è viaggiare, infatti io appena riesco ad organizzarmi parto, sia per mete vicine che per mete più esotiche e lontane. Il libro della mia vita in realtà è una tragedia greca, è l'antigone di Sofroche e è il libro della mia vita perché mi ha insegnato a mettere determinazione per raggiungere gli obiettivi.